In Italia un lavoratore su treno non va in vacanza a causa di salari non adeguati e addirittura poveri. Se si considerano coloro che hanno perso il lavoro o sono in una condizione di precarietà, il dato è destinato ad aumentare. A sostenerlo è uno studio del sindacato europeo che ha sottolineato come in Italia ci sia una situazione tra le peggiori. Il segretario della Will Bombardieri commenta i dati, sottolineando la grave questione salariale in tantissimi settori del nostro paese, dove restano ancora al palo i rinnovi di molti contratti collettivi. Grazie